Buon consiglio, bentornati o benvenuti a questa trasmissione in onore della Madonna De Maria Nunquansatis che oggi è alla sua seconda puntata. È iniziato questa rubrica, questo nuovo spazio del parincesto della radio con un ciclo di catechesi che verteranno sui dogmi mariani che attualmente sono quattro nella Chiesa Cattolica e la verginità perpetua della Madonna, la maternità divina, l'immacolata concezione e l'assunzione al cielo di Maria Santissima che saranno appunto presentati nell'ordine cronologico con cui si sono evidenziati, strutturati e definiti nella fede divina e cattolica della Chiesa. Abbiamo cominciato la volta scorsa a introdurre e ad affrontare il tema della verginità perpetua. Abbiamo visto la verginità perpetua di Maria nelle sue prime due fasi di attuazione cioè la verginità prima del parto e la verginità durante il parto. Oggi concluderemo approfondendo il tema della verginità dopo il parto di Maria Santissima e cominciando anche a vederne poi alcune fondamentali conseguenze, cioè che significa e perché è così importante che la Madonna sia riconosciuta come vergine prima, durante e dopo il parto. Allora, ci introduciamo subito senza perdere troppo tempo e al tema la terza parte, quindi Maria Vergine dopo il parto. Allora, qui c'è subito l'obiezione che introducevamo la volta scorsa e che dobbiamo adesso proprio andare a smontare del passo che tra l'altro abbiamo sentito anche nella Santa Messa di ieri, per chi, spero tutti gli ascoltatori, c'è stato, dove Gesù c'era il Vangelo di San Marco, quindi i problemi avuti a Nazareth da nostro Signore Gesù Cristo insomma da parte di chi lo vedeva in modo umano senza riconoscerne l'origine soprannaturale definendola appunto il figlio del falegname e poi il fratello e c'era l'elenco di nomi di quattro fratelli oggi lo rileggeremo questo brano tra poco e le sorelle di Gesù. Allora dice qui altro che verginità perpetua. Qui Gesù faceva parte di una famiglia numerosa vi ho già accennato la volta scorsa che purtroppo qui ci sono le eresie di ieri e di sempre i nostri poveri fratelli che sono caduti nelle spire di quella che è una setta purtroppo che sono i testimoni di Geova, una setta insomma perché completamente non ha niente a che fare con la Chiesa Cattolica, è completamente separata dalla Chiesa Cattolica e ha anche proprio tutte quante le caratteristiche purtroppo non molto belle di quella che non era la propria setta e incontrano le persone e gli dicono tra le varie cose, tra le varie sciocchezze che dicono che la Madonna, che non è vero quello che è la Chiesa Cattolica insieme sulla Madonna che era sempre vergine perché c'è scritto così nella Bibbia e a qualcuno che gli obiettivi è quello che è un problema magari di traduzione che non si intendeva così, presenta nei testi originali, ve l'ho già detto, il Nuovo Testamento, l'ho già accennavo la volta scorsa, dove effettivamente il termine greco non è quello con cui esiste in greco un termine per dire cugino o altro, d'accordo? Il termine greco la del fos ordinariamente in greco significa fratello di sangue, d'accordo? E quindi vedi c'è scritto pure nel testo greco, quindi qual è la premessa da fare? La premessa da fare è la seguente, a parte il fatto che sappiamo dall'esegesi, anche se questa è una questione ancora da dimostrare, ci sono varie teorie, io personalmente propendo per quella che vi sto dicendo, sapete che i Vangeli Sinottici, perdonatevi se faccio queste introduzioni, cerco di farle in maniera più semplice possibile, però un minimo di formazione penso che dobbiamo averla, i Vangeli Sinottici, suoi Matteo, Marco e Luca, si chiamano Sinottici perché appunto in greco Sinottico deriva, significa con uno sguardo solo, quindi con uno sguardo d'insieme, se uno vede i tre Vangeli di Matteo, Luca e Marco hanno dei forti punti di contatto, nel senso che hanno proprio delle parti che sono identiche, altre che sono molto simili, a volte sono semplicemente differentemente disposte nel contesto diciamo così letterario del Vangelo, mentre il Vangelo di San Giovanni se ne fa tutta una storia propria. Ora, questo perché dobbiamo comprendere che nelle cose della fede, tuttavia la ragione quando è ragione retta e santa, dentro ci può e ci deve entrare, è un peccato il razionalismo, non l'uso della ragione che ce l'ha data nostro Signore. Se tre Vangeli hanno tanti punti in comune, che significa? Significa che c'è stata una fonte comune, cioè è chiaro che lo Spirito Santo potrebbe farlo pure lui questa cosa qui, è tutto possibile, però e tutti quanti gli esegenti sono d'accordo. Qual è questa fonte comune? Qualcuno vi dice, io propendo per questa cosa, però è una tra le tante, quindi sono teorie d'accordo che non è neanche tanto importante, però tanto per dire, propendo sul fatto che il primo, e questo è un dato che viene dalla tradizione tra l'altro cattolica, che questa fonte comune sarebbe la originaria redazione del Vangelo di San Matteo, che è andata perduta, che era molto più breve di quell'attuale, San Matteo è il Vangelo più lungo, c'era 28 capitoli, era molto più sintetica, è scritta in aramaico. Allora, gli altri, Matteo stesso ha scritto la seconda versione in greco, rielaborando la propria, e comunque siccome questa copia circolava, è molto circolata nella primissima chiesa, ha poi, diciamo così, costituito un pochino il brogliaccio, diciamo così, la falsa riga, su cui San Marco ha elaborato il suo Vangelo sulla base della predicazione di Pietro, e San Luca il suo Vangelo sulla base della predicazione di San Paolo, tra l'altro San Luca, come specifica nel prologo, andando anche a prendere ulteriori e dettagliate informazioni, d'accordo, e probabilmente in esse ci sono anche qualche discorsetto che si era fatto con la Madonna, da tutti quanti i particolari che racconta della vita, del Vangelo dell'infanzia, visti dal lato di Maria Santissima. Perché dire tuttante queste cose? Perché di fatto i tre Vangeli sinottici più antichi, che noi conosciamo, i codici più antichi, sono in greco, però sono scritte da persone, Matteo più di tutti, ma anche Marco e Luca, che sono vissute, anche se parlavano in greco, in un contesto caratterizzato dall'ebraismo. Chi ha studiato l'ebraico, e chi conosce l'ebraico, sa che il mondo ebraico è un mondo al sé stante, cioè sia nella lingua ebraica, adesso non è caso di approfondire, no? Nella grammatica, nella sintastica, ci sono dei modi di esprimere, completamente strane a noi, quindi già è stato un grosso problema per degli ebrei scrivere in greco. Non immaginiamo che fatica avrà fatto San Girolamo a tradurre dal greco al latino, e questo è anche il motivo per cui ogni volta che c'è una traduzione, le traduzioni sono sempre limitate, d'accordo? Io ho già fatto alcuni esempi, la traduzione c'è del 74, per certi aspetti a me appare migliore, ma per altri aspetti è migliore quella del 2008, perché c'è nello sforzo lotevole di cercare il più possibile di rimanere fedele al significato originale, però ci sono purtroppo delle espressioni che non si possono rendere in lingue differenti dalle proprie. Perdonatemi questo escursus, questo panaginico, adesso lo comprenderemo, perché questo è un prerequisito per comprendere il nodo dei fratelli e delle sorelle di Gesù. La prima cosa da pensare è questo qui. I Vangeli sono stati scritti in greco, quelli che ci sono arrivati, quindi salvo questa ipotesi molto probabile dell'originale redazione aramaica del Vangelo di Matteo, ma sono scritti in greco da persone che pensavano in ebraico. Io che sono un italiano, per esempio, che ha studiato una lingua, lo sa bene. Io quando studiavo l'inglese alle accademie britanniche, la professore sta sempre a dirci, tu non devi pensare in italiano e fare la traduzione simultanea, tu devi cominciare a pensare in inglese, ma questo è molto difficile, perché dovrei andarmene dieci anni in Inghilterra e essere proprio immerso completamente, ma io posso pure diventare un fenomeno, posso pure diventare il first e il second, l'advance, tutti i certificati che voglio, ma sono sempre un italiano, d'accordo? Perché la lingua italiana, io ce l'ho dentro il cervello perché l'ho acquisita da bambino, cioè una struttura di logico e di pensiero che mi caratterizza. Quindi è chiaro che è lo stessa cosa, cioè se devo scrivere qualcosa in inglese, io penso e faccio la traduzione e scrivo, o se devo fare un discorso. La stessa cosa vale per il latino, se vuoi per chi conosceva qualche lingua, no? Il latino è un disastro che vuoi, perché il latino c'è proprio un'altra struttura logico-mentale, quindi voi sapete che quando andavo al liceo le versioni erano già diventate dal latino all'italiano, ma mia madre mi raccontava che quando andava al liceo lei, e c'aveva paratore di professore di latino, gli facevano fare le versioni dall'italiano al latino, che è una fatica enorme, d'accordo? Perché non è soltanto della turra, ma è cambiare mentalità perché il latino mette il verbo all'inizio della frase, il soggetto quattro righe più tardi, capite? Quindi ci sono tutte e tante queste cose. Allora, che cosa significa? Adesso vi dico subito la fine e poi vi do la dimostrazione, cioè gli evangelisti hanno usato il termine greco Adelphos, d'accordo? Ma l'hanno usato dando ad Adelphos non il significato che ha nella lingua greca, cioè fratello di sangue, ma il significato che l'equivalente ebraico, che è Ach, che significa fratello, ha nella lingua ebraica, cioè non fratello di sangue, ma parente, membro del clan, membro di quella che i romani chiamavano la famiglia Agnatizia, cioè il capo stipide, lo zio, il cugino, il nipote, allargato discretamente, non proprio, capite, la tribù di Giuda di cui era, faceva parte Gesù, ma allargato abbastanza la parentela. E ci sono le dimostrazioni, chiaramente, di tutto questo, e le andremo a vedere nella Saga Scrittura. Perdonate se c'è questo passaggio un po' delicato, ma questo è un tema fondamentale, questo qui, anche perché la virginità dopo il parto di Maria Santissima ha delle conseguenze fondamentali, alcune inoppugnabili, note, fatte proprio anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica, altre utili per addentrarsi in ipotesi teologiche, io un cenno almeno vorrò farlo a questo qui, che si fondano proprio sulla virginità post partum, e sono in un certo senso riprese anche dal fatto che Gesù è rimasto vergine, punto, è rimasto vergine, non solo, e agli apostoli che erano sposati ha chiesto eccezionalmente di lasciare la moglie, non di divorziare, d'accordo, ma di chiedere alla moglie, quindi di, sicuramente gli apostoli ne hanno parlato, di avere il permesso di poter seguire Gesù al cento per cento, quindi, come dire, in qualche modo lasciando perdere la moglie, insomma, non tradendo, non facendo un altro matrimonio dicendo figlio a mio, amore mio, è arrivato Gesù, io devo dare la vita alla missione, ti prego, cerca di darmi il permesso e fallo, deve essere andata per forza così, d'accordo? Quindi ci sono tutta quanto una serie di valori intrinsechi della verginità e anche funzionali, se vogliamo, cioè inerenti al rapporto tra verginità e missione salvifica di chi è chiamato a partecipare con pienezza alla missione di Gesù, che devono essere focalizzati e quindi, tra virgolette, la difesa della verginità di Maria non è soltanto un fatto che riguarda Maria Santissima, ma Dio gliela fatta vivere deve essere fermamente, come dire, presa per buona questa verità, perché inattaccabile, perché riflettendo su di quella se ne possono comprendere altri, questo vale per tutti i dogmi mariani. Allora, cominciamo la lettura, cominciamo a vedere le fonti incriminate, abbiamo anzitutto Matteo 12,47, in Matteo 12,47 si legge, qualcuno gli disse, ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti, il termine i tuoi fratelli nel senso che abbiamo visto prima, ricordiamoci che il termine greco fa riferimento ai fratelli fratelli, non i fratelli per scherzo, fratelli fratelli. Ok, ancora, sempre Matteo, capitolo 13, 55 e 56, si legge, non è ogligli forse il figlio del carpentiere, sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli, attenzione al nome dei fratelli, Giacomo, Giuseppe, vedremo che Marco dice Ioses, ma Ioses è la stessa cosa di Giuseppe, Simone e Giuda, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, poi vedremo anche chi sono due di questi quattro, e le sue sorelle non sono tutte fra noi, da dove gli vengono dunque tutte queste cose? Il parallelo di questo, però per completezza, perdonatemi, ma dobbiamo andarla a vedere, è il Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa di ieri, ieri era la quattordicesima domenica del tempo ordinario, anno B, per chi dovesse un giorno ascoltare questa catechesi lontano dalla diretta, e Marco, il Vangelo era, il versetto era il 32 del capitolo 3, chiaramente il Vangelo era un pochino più ampio, no? Allora, giunsero intanto, non è questo il passo proprio di ieri, ma dopo lo andremo a vedere, questo ne è un altro ancora, scusate, il 3,32, tutto attorno era saluto alla folla e gli dissero, ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti cercano, quello che abbiamo letto invece ieri era, scusate, lo trovo subito, era il Vangelo della messa di ieri, andiamo un attimo, datemi un attimo un secondo, è il Vangelo di Marco il capitolo 6 questa volta, versetti 1,6 e troviamo scritto, non è costui il falegname, il figlio di Maria, attenzione il fratello di Giacomo, vedete di Ioses, anziché Giuseppe, di Giulia, di Simone, e le sue sorelle non stanno tutte qui fra di noi ed era per loro motivo di scandalo, quindi abbiamo anche questo passo, poi abbiamo un Luca, ce ne dovrebbe essere un altro ancora ma facciamo finta che bastino, Luca capitolo 8, versetto 20, che dice, gli fu annunziato, tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti, quindi questi sono tutti quanti i brani che sembrerebbero negare la verginità perpetua di Maria dopo il parto perché parlano attesterebbero la presenza di fantomatici fratelli e sorelle di Gesù. Ora andiamo a vedere perché questi fratelli e sorelle vanno intesi alla aramaica, cioè non come fratelli e sorelle germani, diremmo noi, cioè di sangue, ma come cugini e cugine. Allora, cominciamo a vedere i passi biblici che confermano queste cose. Cominciamo con l'Antico Testamento. C'è il Libro della Genesi, al capitolo 13, versetto 8, leggiamo esattamente queste testuali parole. Qui stanno parlando Abramo e Lot, tutti quanti sanno che Lot era il nipote di Abramo, è noto questo qui. 13, 8, leggiamo scritto, Abramo disse a Lot, non vi sia discordia fra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Ma Abramo e Lot non erano fratelli, ma erano zio e nipote. Ora, il termine ebraico che si trova in questo testo è Ach. Se tu volessi prendere, come hanno fatto quelli della 70, e tradurre l'ebraico in greco, troveresti Adelphos. Quindi il processo inverso, però quando tu trovi scritto in greco Adelphos, non puoi certamente andare a tradurre fratello di sangue, perché Lot non era il fratello di sangue, d'accordo? Genesi, andiamo avanti, 14, versetti 14 e 16, vediamo quello che si trova scritto. Quando Abramo sebbe che il suo parente, vedete qui usa l'altro termine, perché era stato preso prigioniero, quindi organizzò i suoi uomini esperti, eccetera, eccetera. Nel versetto 16 ricuperò così tutta la roba e anche Lot suo parente, i suoi beni con le donne e il suo popolo. Quindi fratello uguale parente, non fratello di sangue ipso facto. Ancora nel capitolo 29 del libro della Genesi, ai versetti 12 e 15, Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente, attenzione del padre di lei perché figlio di Rebecca. Allora essa corse riferiva al padre. Anche qui la traduzione dice parente, ma il testo ebraico dice fratello, non parente. Qui abbiamo Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei perché figlio di Rebecca. Quindi parente del padre di lei perché figlio di Rebecca non vuol dire fratello, d'accordo, ma vuol dire anche qui nipote. Versetto 15, Labano dice a Giacobbe, poiché sei mio parente mi dovrei forse servire gratuitamente. Anche qui traduzione letterale, poiché sei mio fratello. Perché vedete quando è palese che non si tratta del fratello di sangue la traduzione italiana traduce con parente. Ancora ce ne stanno tanti altri, adesso però non voglio appesantire la trasmissione perché è quanto basta. Levitico 10.4 Mosè chiamò Misael ed El-Safan figli di Uziel, zio di Aronne, disse loro avvicinatevi, portatevi a questi vostri congiunti. Qui troviamo tradotto, ma anche qui è portatevi a questi vostri fratelli dal santuario fuori dall'accampamento. Ora, oltre a questi dati che già basterebbero, abbiamo però ulteriori testimonianze. Perché i nomi di questi quattro fratelli abbiamo visto che sono Giacomo e Giuseppe, Ioses secondo Marco 6.3, Simone e Giuda. Ora, i Vangeli stessi ci dicono che questi Giacomo e Giuseppe sono figli di un'altra Maria che non è la Madonna. Se lo dicono testualmente, Marco 15.40 dice testualmente, c'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, attenzione, Maria madre di Giacomo il minore, attenzione a questo nome, e di Ioses, questo è Marco, lo stesso che nel capitolo 6 aveva nominato questo fantomatico Ioses, tra i fratelli di Gesù. Quindi, Giacomo il minore e Ioses sono figli di Maria, di un'altra Maria, d'accordo? Non di Maria di Nazareth, ma Maria madre di Giacomo il minore di Ioses. Matteo, al capitolo 27, versetto 56, dice a sua volta, Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Cioè, queste sono le tre Marie, le tre Marie, che erano con Maria ai veri della croce. Una di queste tre Marie, quindi c'era Maria di Magdala, c'era la madre dei figli di Zebedeo, o Maria Salome, chiamata nei Vangeli, e poi c'era la Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, cioè Maria di Cleofa, come la chiama l'Evangelista San Giovanni. Ogni tanto bisogna fare un pochino di, capite, di ordine e di comprensione. Ora, ecco, due di questi quattro pantomatici fratelli, già abbiamo visto, chi era Maria di Cleofa? Maria di Cleofa era la moglie del fratello di San Giuseppe, che si chiamava appunto Cleofa. Quindi chi erano questi? Erano cugini di Gesù, tra l'altro neanche proprio cugini carnali in senso stretto, perché San Giuseppe era il padre apputativo di Gesù. Comunque, il fratello di San Giuseppe ha dei figli e questi sono quelli che noi chiameremo oggi i cugini di Gesù. Ora, attenzione, il secondo vescovo di Gerusalemme, noi sappiamo da Egesippo, si chiamava Simone. E attenzione, fu come il primo, cioè Giacomo, Giacomo il Minore, autore tra l'altro dell'epistolo neodestimentario alla lettera di San Giacomo Apostolo, fu il primo vescovo di Gerusalemme. Come ci informano gli atti degli apostoli? Abbiamo il capitolo 12, il versetto 17, che ci dice, riferite a Giacomo e ai fratelli. Quindi Giacomo era il vescovo di Gerusalemme. E poi abbiamo 15-13. Tutta l'assemblea d'acqua, estetero da ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tre pagani per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse. Vedete come Giacomo appare come l'autorità di Gerusalemme, quindi il primo vescovo. Ma Egesippo ci informa che il secondo vescovo di Gerusalemme fu Simone, un altro dei tre fratelli di Gesù. Quindi il primo vescovo di Gerusalemme fu Giacomo. Il secondo vescovo di Gerusalemme fu Simone. Chi è Giuda? Giuda è l'altro fratello del Signore, che è l'autore dell'epistola neodestimentare di Giuda. Che cosa dice l'incipit del capitolo 1 del primo, il versetto 1 del primo capitolo della lettera di Giuda? Comincia così. Giuda, servo di Gesù Cristo, vedete sempre l'equivoche su fratelli, fratello di Giacomo. Cioè, e questa volta qui usa il termine fratello, perché fratello si può usare anche il termine in senso stretto, come fratello, fratello, fratello di Giacomo. Capite? Quindi, Egesippo, che è un autore greco, è la fonte dell'informazione che è citato dal grande Eusebio e che lo chiama cugino stavolta in greco di Gesù, quindi non adelfos, ma anepsios, che è il termine greco tecnico per dire cugino. Chiedo perdono per questa rassegna fondamentale, però contro queste obiezioni testuali bisogna essere formati e capire bene, insomma, perché la fede non può fondarsi su fumi o possibili titubanze o dubbi. Perché la Madonna non ha avuto altri fratelli di Gesù. E anche quando viene detto che Gesù era il figlio primogenito, questi sono i mangiamenti dell'infanzia di Matteo, qui dice che se era il primogenito, significa che c'era stato anche il secondogenito e il terzogenito. No, perché anche qui c'è il discorso della legge mosaica, cioè Gesù viene portato al Tempio di Gerusalemme perché era il primo maschio nato da loro, perché la legge del riscatto originata dall'Antico Testamento, sapete perché Gesù è stato presentato al Tempio dopo 40 giorni? Perché Mosè aveva detto, il primo maschio nato dalle tue viscere appartiene a me, dice il Signore. Se te lo vuoi tenere dentro casa, te lo vai a riscattarlo. Che significa? Devi andare nel Tempio e offrire un sacrificio, sostituce, per quel sacrificio che tu offri, se il Signore ti offre questo sacrificio e in cambio mi riprendo il figlio che sarebbe tuo e che ti ho presentato, ma che però adesso me lo riporto a casa. E perché questo? Il ricordo della strage dei primogeniti che Dio fece per indurre il faraone d'Egitto a far partire e far uscire il suo popolo di Israele. Li capite quanta cultura biblica che ci deve essere dietro? Capite anche, perdonate se avrò una piccola parentesi, no? Io ho sempre raccomandato, la Chiesa rastraraccomanda, specialmente dopo il Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, la lettura della Sacra Pagina dei Vangeli e della Bibbia. Ora immaginate una persona che si mette a leggere il Vangelo, d'accordo? Da solo, si imbatte in uno dei passi che abbiamo visto oggi e comincia a fare, ad improvvisarsi come autoesegeta e a dire guarda che c'è scritto qui, Gesù c'ha quattro fratelli, allora la Chiesa mi ha ingannato. Capite, no? Quindi mi raccomando, quando leggiamo doverosamente e salutarmente il Vangelo e la Bibbia, leggiamolo sempre come fonte di alimento spirituale per noi. Non ci mettiamo a improvvisarci, eseggeti, fai da te, perché inevitabilmente cadiamo in errore. Noi dobbiamo sempre pensare, se nel Vangelo e nella scrittura mi imbatto in un passo, in una lettura, in un versetto che mi sembra contraddire quello che la Chiesa insegna, devo stare per certo che c'è un problema filologico, eseggetico, che io non conosco, che non so interpretare. Quindi, prima la Chiesa e poi la testa mia, d'accordo? Sempre questo qui. Guardate attenzione sempre, eh? La devozione a Santa Madre Chiesa è sempre la bussola e il criterio, d'accordo? Perché io mi sbaglio ma la Chiesa no. Capito? Ecco. Questo deve essere una cosa fondamentalissima, perché poi la Chiesa non si sbaglia, d'accordo? Che sia che tu ci credi che se tu non ci credi. Però, ecco, non diventi la lettura della Bibbia una fonte che anziché andarci a delevare a pascoli verdi e salutari, perché per questo è stata donata, diventa poi per accidenza a causa del suo uso distorto da parte nostra una fonte che ci avvelena. Ecco, questo non sia. Ora, perché è così importante la verginità della Madonna anche dopo il parto? Allora, la Chiesa ci dice subito, c'era subito alcune, diciamo così, nel catechismo alcune chiavi di lettura, no? Queste cose si trovano nel catechismo della Chiesa Cattolica, no? Nel 506, per esempio, si leggono due letture. La verginità della Madonna fu segno di due cose. Uno, la sua fede assoluta. E il secondo, il suo totale abbandono a Dio. Cioè, la verginità. Vedete che prima della Madonna nessuno, non solo che nessuno era stato vergine, ma non era un valore la verginità, era un disvalore. Perché nell'Antico Testamento ciò che Dio aveva ordinato al suo popolo era che le donne, appena diventate capaci di concepire, prendessero marito e moltiplicassero il santo popolo di Dio. Ed era un disonore la sterilità, una cosa gravissima, pensiamo all'esempio di Santa Elisabetta, così come era assolutamente considerata inutile una donna che non avesse preso marito e non avesse dato una discendenza a Yahweh. Capite? Quindi, allora, il tema della verginità consacrata è un tema che compare assolutamente, come novità assoluta, in Maria e in Gesù. Non c'era. Quindi, se è vero che il cristianesimo si installa sull'albero e sulle radici dell'ebraismo, voi sapete che c'è una continuità nella discontinuità. Capite? Ci sono delle cose che continuano, poi ci sono anche delle rotture, diciamo così, tra la fede divina e cattolica e l'ebraismo. Rotture che non vogliono essere disprezzo, no, ma è certo che Gesù e Maria hanno portato qualche cosa di nuovo, quindi non hanno raso al suolo il passato, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, ma per completare. Quindi Gesù non è venuto certamente a negare la santità del matrimonio, come hanno detto alcuni eretici, ecco, ma ha elevato la dignità di un sacramento, non c'era nell'Antico Testamento il sacramento del matrimonio, quindi lo ha elevato e sublimato dandogli delle nuove significazioni e delle nuove forme di importanza rispetto a quelle che c'erano anticamente. Quindi, quale disprezzo? Ma ha portato la virginità che è una sublimazione, è una sovraelevazione rispetto al matrimonio. Perché? Perché la virginità non è altro che la sponsalità vissuta con Dio solo. Una persona che è vergine è vergine perché la sua anima, il suo cuore, e perdonatemi anche in un certo senso, certamente in un senso divino, in un umano, il suo corpo, è unito a Dio sommamente amato. La Madonna è stata la prima e l'emblema di tutto questo. La prima e l'emblema. Voi sapete che c'è una tradizione antichissima che la Chiesa ha recepito nella liturgia, voi sapete quando la Chiesa celebra una memoria liturgica, c'è un antichissimo adagio che l'Alexo Randi leggem credendi statuat. Cioè, se la Chiesa nella liturgia celebra qualcosa, quella cosa fa riferimento certissimo ad una verità di fede. Ora, il 21 di novembre, si celebra la festa della presentazione di Maria Santissima al Tempio. Cosa è stata questa festa? Questa festa si fonda sulla tradizione che Maria Bambina si sia recata molto piccola al Tempio di Gerusalemme per entrarci e sostarvi fino al tempo in cui diventava alla pubertà, diciamo così. Questo perché? Perché in Israele non c'era la verginità consacrata, ma c'era questa istituzione, diciamo così. Allora, qual era? Che le fanciulle, prima che diventassero i romani direbbero viri potens, così dicevano nel codice di diritto romano, quindi pubere, quindi capace di perdonatemi stare con un uomo e quindi concepire, quindi fino a circa 12-13 anni, potevano stare nel Tempio a fare cosa? A cantare le loti del Signore. Erano una sorta di quelle che oggi noi chiameremmo di piccole suore di clausura, quindi stavano lì e si occupavano di servizi nel Tempio, operazioni molto femminili, molto manuali, cantavano le loti e erano sottoposte alla cura di qualche piadonna o qualche vedua generalmente che sovrintendeva al loro servizio. La Chiesa celebra questa tradizione unitamente ad una altra tradizione che ha recepito come fondata e cioè che contestualmente al suo ingresso nel Tempio la Madonna prima fra tutte le creature offrì a Dio la sua verginità. Cioè entrò nel Tempio dicendo sì, io lo so che dovrò uscire da qui ma io desidererei farti il dono della mia verginità perpetua, quindi di essere nella mia vita tutta e solo tua e di non conoscere uomo perché la conoscenza di un uomo e questo è vero anche per noi ci rende una carne sola una cosa sola con lui. Allora quando Dio è sommamente amato questo non è spiega Gesù nel Vangelo Matteo 19 per tutti ma per coloro che hanno questa specifica vocazione io questo lo so perché l'ho vissuto sulla mia carne perdonatemi perché io sono una vocazione adulta e la vocazione si è proprio installata io l'ho percepita quando ero vivevo un rapporto bellissimo di fidanzamento con quella che sarebbe dovuta poi diventare un giorno se Dio avesse voluto la mia santa moglie e io ho proprio vissuto dentro il mio cuore questo processo di come dire di trasformazione di un amore che doveva diventare sponsare tra una creatura in amore fratello e sorella proprio allo stato puro anche se si viaggia la purezza ma c'è proprio un affetto che non desiderava di più e invece un amore incipiente verso Gesù e Maria che diventava un amore travolgente d'accordo cioè che tu volevi stare sempre solo con loro che addirittura la presenza delle creature diventava anziché bella addirittura un intraccio insomma è un'esperienza bella anche se un po' dolorosa quando vissuta in questo contesto ma io insomma lo capisco anche per esperienza cosa significa questo qui no? ora la chiesa questo la ricevutino in un amore di liturgia quindi la Madonna entra nel tempio e poi vedete anche l'obbedienza esce dal tempio va in sposa a San Giuseppe però capiamo anche perché la Madonna ha risposto all'Arcangelo Gabriele quando gli ha detto guarda che tu diventerai la madre del figlio gli dice ma come avverrà questo dal momento che non conosco abbiamo visto l'altro io non voglio conoscere uomo cioè noi non sappiamo com'è andata con San Giuseppe se la Madonna gli avesse già parlato non lo sappiamo nei particolari certo abbiamo ci sono delle rivelazioni private dove c'è descritta insomma una possibile storia non sappiamo cosa è successo sappiamo certamente che al momento dell'annunciazione già era uscita dal tempio già si era fidanzata con San Giuseppe la Madonna obietta dice ma devo rinunciare alla virginità cioè che cosa facciamo questo è il senso della sua domanda dice no diventerai incinta per la parola dello Spirito Santo e attenzione i Vangelici vanno anche capire stavolta quelli di San Matteo che la Madonna non ha parlato con San Giuseppe la Madonna non ci ha parlato ha mantenuto il segreto per sé sicuramente perché non ha parlato capite come fai cioè tu dici ma glielo poteva dire a quel poraccio di San Giuseppe lo pensavo pure io ma se uno ci pensa bene cioè come fa una creatura così umile come la Madonna tra l'altro cioè andare a dire a San Giuseppe che ci avrebbe subito creduto d'accordo però è un problema personale cioè come fai andare a San Giuseppe e dirgli senti San Giuseppe promesso sposo mio ti devo dire una cosa è venuto un arcangelo e mi ha detto che la mia vocazione era di diventare la madre del Messia attento che però il Messia non è un semplice uomo è il figlio di Dio fatto carne e io ce l'ho già nel grembo perché ho detto fiat si poteva anche fare ma sarebbe stato come dire un po' sconveniente all'umiltà assoluta della Madonna per cui era maggiormente conforme all'ordine divino che ci pensasse Nostro Signore a farlo sapere a San Giuseppe e molto probabilmente era anche richiesta questa grande sofferenza sia la Madonna perché capite immaginate quando San Giuseppe è tornato a prenderla dalla visita a Santa Elisabetta che stava già al terzo o quarto mese sicuramente qualcosa si vedeva capite quel poraccio di San Giuseppe noi dobbiamo essere molto cioè San Giuseppe era un grande d'accordo era un grande di più un grandissimo il più santo dei santi tra gli esseri umani non c'è più santo di San Giuseppe ci hanno fatto tante catechesi capite quindi però non è che che non ha vissuto una sofferenza allucinante cioè perché immaginate la scena San Giuseppe torna vede la Madonna la Madonna non gli dice niente la Madonna comincia a dire vediamo se San Giuseppe mi dice qualcosa San Giuseppe non dice una parola quindi cosa capisce la Madonna Dio ancora mi ha fatto sapere niente perché se lo avesse saputo ma appena mi avrebbe incontrato si sarebbe messo in ginocchio ad adorare chi mi ha porto nel grembo non l'ha saputo San Giuseppe che cosa obietta e cioè voglio dire San Giuseppe che cosa pensa dice ma questa ragazza almeno che insomma non ha avuto un'alimentazione sprocedata non è normale che stia così che è successo capite cioè è una cosa allucinante insomma il Vangelo di San Matteo dice che poi è stato un angelo ad apparire in sogno a San Giuseppe e dire stai tranquillo quindi vedete come le grandi opere di Dio no e e la Madonna quindi perché cioè allora se capite se Dio si è pensato si è inventato un modo per far addirittura diventare madre senza violare la sua verginità né nel concepimento né nel parto era perché la voleva vergine perpetuo quindi perché questo questo suo essere tutta e solo di Dio doveva essere una caratteristica che non l'avrebbe mai abbandonata in tutta la sua vita terrena d'accordo qui io sono rimasto non ho fatto nessun tipo tutto quello che vi ho detto fino adesso è tutto patrimonio di mamma chiesa d'accordo il catechismo citava la verginità come segno della fede assoluta una persona che è vergine che è esposta si abbandona completamente e vive completamente di Dio e per Dio solo questo è il grande valore della verginità attenzione nel numero 507 dice anche la verginità come immagine della purezza della chiesa purezza da tutti i punti di vista ma attenzione purezza della chiesa che custodisce integra eppura la fede datale dal suo sposo divino non c'è solo una purezza del corpo né una purezza del cuore né una purezza degli sguardi e dei pensieri che in maniera erano indefettibili ma questa purezza che è espressiva che è espressa anche dalla verginità allude alla purezza della fede che la chiesa ha e che la chiesa conserva dentro questa verginità stessa di maria santissima poi si come dire innesta la verginità stessa di gesù gesù non c'ha avuto la moglie anche qui a differenza di israeliti non ha avuto la moglie perché non ha voluto averla io oggi mi andrei verso la conclusione perché poi oggi facciamo una puntata dedicata a tutto quello che è di fede poi la provo la prossima volta concludendo anche andando a vedere anche altre fonti magisteriali concluderemo questo discorso vedendo anche altre implicazioni possibili di questo importantissimo segno della verginità allora Gesù è rimasto vergine perché già si comincia a stagliare il valore della verginità la verginità ha due grandi filoni è espressione del fatto che il mio rapporto con Dio è totale totalizzante responsale cioè io sono tutto suo e lui è tutto mio è il sommamente amato è colui che non soltanto viene al primo posto questo vale per tutti ma è l'unico amore della mia vita e tutti gli altri possibili e santi amori sono tutti da riferire da vivere in lui e per lui quindi chi è vergine è sposato e unito a Dio e a nessun altro al di fuori di lui quindi deve essere anche molto vigilante sotto tanti punti di vista dicevano noi preti anche quando stavo in seminario tu stringerai tante mani ma non ne tratterrai nessuna perché tu appartieni a Dio solo questa è la prima cosa e questo è il valore diciamo immenso della verginità uno secondo un'appartenenza totale a Dio per poter compiere liberamente e senza legami umani in tutto e per tutti la sua volontà e adempiere al 100% la sua missione le persone che mi conoscono per esempio sanno che ultimamente sono fatto tante tante caticheze che qui sono sull'Adi Buon Consiglio sono pieni due settimane fa sulla Divina Volontà e Luisa Piccarreta cosa ha fatto per esempio Dio con Luisa Piccarreta che è stata vergine anche lei Luisa Piccarreta è rimasta vergine ma non è entrata né in convento né in monastero è rimasta vergine adesso è stato restituito l'Ordo Virginum sarebbe stata un prototipo dalla Santa Chiesa ed è una grande benedizione l'Ordo Virginum con tutto il rispetto e sempre l'eccellenza delle forme di vita consagrata non me ne vogliano le suore che io sono un fan e un estimatore della vita religiosa monastica e consagrata ma è necessario che ci sia anche l'Ordo Virginum cioè persone che vivano la virginità consacrata anche in forma ufficiale senza muoversi dal proprio dallo stato di vita e conservando diciamo così quella certa libertà interiore per poter adempiere delle missioni particolari che Dio è liberissimo di dargli cioè Luisa Piccarreta stava dalla mattina alla sera a occuparsi non solo degli iscritti ma anche del nuovo modo di pregare nella divina volontà le ore della passione tutti i giorni i giri come facevi a fare una cosa del genere se stavo in una comunità dove comunque ci stanno degli orari ci stanno e tu devi vivere gli orari la regola i tempi di lavoro i tempi della preghiera tu puoi fare come la testa tua quando sei dentro una comunità e dico sempre alle persone insomma che vogliono entrare in un istituto dico attento che è una cosa bellissima ma tu devi entrare dietro e poi devi vivere al 100% la spiritualità dell'istituto non ti puoi andare lì e mettere a fare cose di testa tua perché la tua santificazione passerà attraverso la professione dei consigli evangelici in quel determinato istituto quindi con quella regola di vita e tu la devi considerare volontà di Dio sicuro e certa se questo non fosse pensa ci fai discernimento bene perché forse Dio ti chiama ad altro quindi che cosa voglio dire il secondo valore della verginità è la dedizione piena totale assoluta e senza lacci a quello che Dio vuole non a fare quello che mi pare capito stanno pure gli scapoloni gli zitelloni cioè io non mi sposo perché io sono libero di fare quello che mi pare no cioè il vergine che si dona a Dio io non mi sposo non per fare quello che mi pare ma per fare tutto quello che Dio vuole senza che nessuno mi ferma è completamente è completamente diversa la prospettiva terzo aspetto ancora quindi unito e sposo o sposa di Dio solo per fare in tutto e per tutto e al cento per cento e senza limiti quello che Dio vuole e ancora e ancora per non per presentare al mondo una forma di amore totalmente divina cioè attenzione che il vergine quante volte Papa Francesco parlando di queste cose lo ha detto non è un rospo d'accordo è una persona che ama immensamente calorosamente prossimamente tutti capite non in maniera fredda distaccata avete visto l'ha detto lui non lo dico io però molti 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 di noi lo pensiamo insomma una suora non può avere la psicologia della zitel bruttissima cosa cioè una zitel una cosa brutta proprio brutta cioè perché è una persona che è rimasta da sola senza qualificare questa sua solitudine semplicemente perché c'era nient'altro da fare non se ne è presa nessuno brutto quindi quando è per questo che anche per un vergine poi la sua affettività la sua umanità va educata cioè tu ami sommamente Dio e a lui solo riservato come il surplus la primizia il cuore del tuo cuore ti dedichi completamente al suo servizio ma vivi il vero amore del prossimo modellato su quello divino cioè ti spendi solo per il bene delle altre persone essendo capace all'immagine di Gesù e di Maria di quella carità bella prossima di quella vicinanza di quella tenerezza di quella dolcezza anche di queste cose tante volte ci parla il Papa che rendono vivo il tuo amore sponsale con Gesù e con Maria cioè noi dobbiamo in un vergine lo stesso amore che vive nel suo rapporto profondo e intimo con Gesù e con Maria lo riversa sulle altre persone e questo è un vergine di una vergine pienamente come dire pienamente realizzati quindi che hanno che non sono che non sono che non sono falliti vedendo una cosa di quel genere non veramente cioè si convertono pure gli ati capite è fondamentale questo qui immaginiamo come potesse essere per le creature il contatto con la Madonna certamente sappiamo che la Madonna certamente non era una persona una mondana cioè uno che stava sempre in mezzo alla gente che stava via in maniera dispersa dissoluta ma non immaginiamoci la Madonna Nazareth come dire priva di vita sociale cioè che non metteva neanche il naso fuori dalla porta per esempio per andare a fare la spesa o che ci mandava San Giuseppe assolutamente io non ho assolutamente un'immagine di questo genere cioè la Madonna era una personalità bellissima cioè se incontrava qualcuno ci parlava si interessava dei suoi problemi stava vicino a chi soffriva era capace di consolare era capace di dare una buona parola capite cioè sempre mantenendo nel cuore questa sua indivisibilità intrinseca suggellata e dispressa dalla virginità con Dio e con Dio solo quindi vedete che in questo senso è bellissima ed è anche assai significativa la virginità perpetua di Maria anche in relazione alla comprensione della virginità nella chiesa ed anche alla promessa di celibato che i sacerdoti fanno nella chiesa latina di questo vorrei cominciare un attimo a parlarne un pochino meglio la prossima volta per comprenderne appunto alla luce di questa prospettiva iniziata dalla madonna ma vissuta anche dal suo figlio Gesù per comprendere la luce di questa pratica l'importanza e il fatto che io ho sempre pensato che nella chiesa latina non si toccherà mai il celibato mai e invitando anche i miei confratelli sacerdoti se mi posso permettere a rileggere dato che tra poco sarà fatto santo la sacerdotalis celibatus del beato Paolo VI che a mio avviso è una delle più belle fonti magisteriali che siano mai state scritte per comprendere e vivere gioiosamente ecco lo splendore del celibato sacerdotale che è un riflesso ed un'applicazione al ministero ordinato della verginità perpetua di Maria e della verginità di Gesù bene detto questo ci diamo appuntamento alla prossima settimana per chi desidera continuare a stare su queste frequenze a tutti le mie benedizioni Ave Maria grazie a tutti